Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Classe 1972, Eva Enger è un'ex attrice, modella e personaggio televisivo ungherese naturalizzata italiana. Spesso ospite dei programmi di Barbara D'Urso, la Enger ha preso parte anche a diversi reality show come L'Isola dei Famosi. La donna ha un compagno da diversi anni Massimiliano Caroletti. La coppia lunedì 5 dicembre 2022 si è recata nell'aula di occorsio del Tribunale Penale di Roma, per essere ascoltati come testimoni nel processo a carico di una trentina di imputati accusati di associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo i PM della DDA Capitolina, come riportato da Il Messaggero, Caroletti e il suo consulente fiscale Luca Piferi sarebbero stati minacciati da Francesco Sirica a causa di un debito di 400.000 euro. Le intercettazioni raccolte dai finanziari di Gico nell'operazione Luna Nera. Negli audio raccolti i timori di Caroletti lascerebbero pochi dubbi. So che finirò al cimitero. Se non Pagano li ammazzo entrambi, avrebbe detto invece uno dei boss, riferendosi al produttore e alla moglie Eva Enger, Contrari all'accessione dei diritti del famoso film per il quale il produttore avrebbe chiesto soldi.